Servirà una delibera di giunta che dovrebbe arrivare giovedì per formalizzare l'assegnazione dell'area di piazzale Salerno Capitale agli ambulanti senegalesi e cingalesi. Dopo l'incontro al Palazzo di Città e l'Assemblea pomeridiana, gli ambulanti delle due comunità da anni radicate sul territorio si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto, da dove sarebbe dovuto partire il corteo, poi annullato in seguito all'accordo trovato con il comune di Salerno. E' stata l'occasione per spiegare nel dettaglio le proposte avanzate e recepite dall'amministrazione, oggetto del contendere le aree di vendita per superare i vecchi mercatini etnici. Dopo il flop di via Vinci Prova, senegalesi e cingalesi avevano bocciato l'idea del comune di trasferimento sul lungomare Marconi a Pastena per lo scarso appeal commerciale. Una prima prova con venditori del Bangladesh, infatti, aveva dato risultati scarsi. Da qui la controproposta, formalizzata con una richiesta firmata dai presidenti delle due comunità, di assegnare l'area al fianco del Grand Hotel chiuso al traffico e senza alcun utilizzo, anche dopo il completamento dei lavori della Lungo Irno. Abbiamo trovato un accordo insieme, un accordo un po' raggenevole, però l'accordo aspettiamo di finalizzarlo per giovedì. Quindi stiamo aspettando il comune di dare risposta per giovedì, perché loro devono fare un giunto, perché devono discutere per finalizzare l'accordo. Quindi noi sospendiamo la manifestazione per aspettare il loro risposto definitivo, diciamo. La discussione di disponibilità che cercavamo sempre. La disponibilità magari ci stava, ma come era ieri, veramente era diversissimo. Quindi alla fine, diciamo, grazie a loro, intanto che la disponibilità ce l'abbiamo trovata finalmente dai. L'intento delle due comunità della CGL comunque è quello di superare il concetto di aree separate tra commercianti italiani e di origini straniere, arrivando ad una presenza condivisa nei mercati rionali. Molti posti nei mercati si stanno liberando proprio per questo, perché c'è crisi anche nell'ambulantato nostrano, però in questa crisi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni migliori e che siano soluzioni definitive per quanto riguarda gli stranieri, perché sono gli unici che ogni anno devono elemosinare spazi e trovarsi in questa situazione indefinita. Noi saremmo per superare anche questi spazi che vengono destinati ai migranti, però è un percorso che cominciamo adesso, adesso c'è da affrontare nell'immediatezza questa situazione critica che vede l'assenza di questo spazio del sottopiazza della Concordia, però la nostra prospettiva è di ragionare su una vera e propria convivenza con tutti gli ambulanti anche locali.